fai gli onori di casa va bene bella domani sapete cosa c'è il 4MAQ Underground Festival con la prima serata di quest'anno la seconda edizione di questo super festival sono qui con Ray domani siamo pronti a partire è il giorno in cui faremo il concerto io presento il CD Totem Ray già arriva con il suo Diotour non potete mancare vi aspettiamo Ray a tutti allo Sport in Milano 26 questo è Rage gioca, dovete perdere non potete perdere questo super live ringrazio